Ciao a tutti da Cristia Di Jason, autore del blog, e direttamente dal mondo fitness, grandissima Carmen Di Pietro. Ma non volevo dire io dal mondo fitness, ciao da Carmen, a tutti voi che siete tantissimi, io mi trovo qui con Michele Spanò, oltre che con il nostro amico simpaticissimo, e la mia pettinatura è l'opera di Michele, e devo dire che io amo lo sport, infatti domani mattina, o ora vado via, perché domani mattina alle 6.30, io sto in palestra a fare fitness, ovviamente, salapesi, e tutto ciò che c'è allo sport. Ti seguiamo, sappiamo che infatti fai moltissima ginnastica, ci tieni molto al confinamento, perché ne voglio bene, ne voglio bene, e noi ti vogliamo di bene di più ancora. Io non fumo, non sono una tante, lo dico subito, perché se no non poterlo, faccio quello, faccio quello, faccio quello, faccio quello, faccio l'altro. Viva la sincerità. Ecco, però mi voglio molto bene, perché quando vedo le mie fotografie di una volta, che tutta la parte è scavata, ogni anno ha festo, perché l'età c'è, e poi c'è l'età, però facciamo di tutto per mantenersi bene. Ricordiamo il nuovo Facebook, da pochissimo, spiegatevi, da quant'è che l'hai fatto? Io da due o tre giorni, infatti non avevo ancora un amico, perché... Da poco arrivano a 5.000 e non potranno più chiedere amicizia, perciò chi prima arriva, meglio alloggia. La prossima volta ti dirò quanti ne sono se mi hai portato bene. Sì, sì, sicuro, non c'è bisogno. Ciao a tutti, Cristian Ticentro, con i blog, Michele e Carmen. Ciao!